Ainscout fu uno psicoanalista e il fondatore della psicologia del sé. Si laureò in medicina nel 1938 e fondò la psicologia del sé negli anni 70, contemporaneamente diciamo al declino che vi era in quel periodo del modello pulsionale classico di Freud. Cout iniziò occupandosi di alcuni disturbi che Freud aveva invece ritenuto inaccessibili al trattamento psicoanalitico. Questi erano i disturbi narcisistici della personalità. Secondo Cout, i disturbi narcisistici potevano essere considerati come dei disturbi con una particolare origine evolutiva, ovvero derivavano dall'incapacità dell'ambiente primario di soddisfare proprio i bisogni narcisistici dell'individuo. E questi bisogni narcisistici erano, secondo Cout fondamentali, per lo sviluppo di un senso del sé integro e coerente. Il sé, quindi, nella psicologia di Cout rappresenta proprio l'elemento di base del modello di apparato psichico appunto elaborato da Cout. Infatti, in questo modello, il sé possiede funzioni che, nella teoria di Freud, quindi nella teoria classica del modello pulsionale, venivano attribuite all'io, all'ess e al superio. Ora, secondo Cout, il sé nasce nell'ambito degli scambi interpersonali e per tutta la vita media le transazioni tra individuo e mondo oggettuale. E, come abbiamo detto, il sé nasce proprio nella relazione con gli altri, con gli altri nell'ambiente primario, altri che vengono definiti da Cout oggetti sé. Cioè, quando il bambino è piccolo, il suo sé è debole, è amorfo, quindi è un sé che non può esistere da solo. Ha bisogno della partecipazione di altri che gli diano proprio il senso di coesione, il senso di costanza e il senso di elasticità. Questi altri, appunto, vengono definiti da Cout oggetti sé. Oggetti sé perché non sono ancora differenziati dal sé del bambino, dal punto di vista del bambino. Il bambino non percepisce gli altri, nell'ambiente primario, come differenziati dal suo sé. In questa fusione tra il bambino e il suo oggetto sé, la psiche del bambino partecipa, in qualche modo, all'organizzazione psichica maggiormente sviluppata, ovviamente, dell'adulto. Quindi il bambino sperimenta gli stati d'animo dell'adulto e li sperimenta proprio come se fossero i suoi stati d'animo. A loro volta, gli oggetti sé, grazie alla rispondenza empatica nei confronti dei bisogni del bambino, forniscono l'esperienza necessaria affinché nel bambino si sviluppi un sé, integro e coerente. Quindi Cout considera le relazioni tra gli oggetti sé e il bambino come gli elementi di base dello sviluppo e della struttura psichica. Quindi il sé sano si sviluppa proprio all'interno dell'ambiente primario, sulla base delle relazioni stabilite con gli oggetti sé. Esistono due tipi di oggetti sé, secondo Cout, gli oggetti sé rispecchianti e gli oggetti sé idealizzati. Gli oggetti sé rispecchianti sono una conferma allenato senso di onnipotenza, che ovviamente è un senso di onnipotenza sano nel bambino, e di grandiosità, quindi sono una conferma al sé grandioso del bambino, proprio grazie al sostegno al bisogno del bambino di poter esibire le proprie capacità in via di sviluppo e quindi di sentire l'ammirazione verso queste capacità. Gli oggetti sé idealizzati invece hanno il compito di riflettere il bisogno del bambino di poter ammirare altri potenti, che vengono percepiti come perfetti, l'immago parentale idealizzata. Grazie a questa idealizzazione il bambino si può fondere in un'immagine appunto di onnipotenza con questi oggetti sé. Il processo di internalizzazione trasmutante è quel processo che fa sì che il bambino interiorizzi le relazioni con gli oggetti sé. Questo processo dà origine allo sviluppo di una struttura psichica permanente, che appunto è il sé. Il sé si costituisce di due poli che sono definiti dalla qualità delle prime modalità relazionali e che sono entrambi fondamentali per formare il nucleo di un sé sano e coeso. La personalità da una parte può organizzarsi intorno a una tendenza alla grandiosità e all'esibizionismo, una tendenza determinata dall'oggetto sé rispecchiante che solitamente è la madre e che si manifesta come una sana ambizione o una sicurezza di sé. Dall'altra parte, la forza invece dominante della personalità può essere la relazione con l'oggetto sé idealizzato, quindi una relazione che deriva spesso dal rapporto appunto con il padre e che può esprimersi attraverso valori e ideali sani e saldi. Ora, qualora sia presente un disturbo a livello di uno dei due poli, questo disturbo potrà essere compensato da un adeguato sviluppo dell'altro polo. Ma se entrambi i poli non si sviluppano, quindi se almeno uno di questi due aspetti del sé non si sviluppa, si arriva a sviluppare una psicopatologia narcisistica, che è caratterizzata da un senso imperfetto del sé e da un'incapacità di mantenere un livello stabile di autostima. Quindi il ruolo dei genitori nella visione di Cout è molto importante. Nella prima fase del suo lavoro, infatti, Cout ha caratterizzato i genitori come oggetti sé, proprio in relazione alla loro possibilità di fornire al bambino una gratificazione narcisistica. Cout, più avanti, amplia anche il ruolo dei genitori e questo ampliamento va molto oltre la semplice gratificazione dei bisogni pulsionali del bambino. Quindi la relazione madre-bambino non comprende più, diciamo, le transazioni relative al rispecchiamento di grandiosità, ma anche la continuità, la nutrizione, l'empatia, il rispetto. E così anche, diciamo, la relazione con il padre non include solo l'idealizzazione, ma anche altre caratteristiche relazionali positive, come l'intimità, l'empatia o la condivisione. Ovviamente non stiamo parlando di mancanze sporadiche di empatia o mancanze periodiche, stiamo parlando di mancanze croniche di empatia, che sono attribuibili a una vera e propria patologia dei genitori. Questo tipo di mancanze vanno a incidere profondamente sullo sviluppo sano del sé del bambino e causano esiti psicopatologici. Questo proprio perché le deviazioni dei genitori dal ruolo di oggetti sé ottimali possono far sì che il bambino sperimenti i genitori come aggressori non empatici dell'integrità del suo sé.